sua cultura è importante, meglio è ovviamente. Quindi questo è molto importante. Il linguaggio del corpo poi è veramente importante nella seduzione perché comunica all'altra persona molto di più del linguaggio logico e se vuoi diventare tra virgolette una sirena seducente deve avere un linguaggio del corpo irresistibile, quindi devi guardare alcune cose fondamentali. Intanto devi essere più morbido e flessibile possibile. Cerca di sistemarti anche fisicamente. Ti ricordo, evita, secondo se segui il mio consiglio, il silicone, cioè evita, a meno che non hai proprio problemi particolari, ma evita di utilizzare, di diventare una rifattona perché perdi completamente la tua espressività. Sono le buzzicone, sono le coatte che si fanno rifare le cose, sono quelle veramente che stanno in ciociaria, per dire, che spendono soldi per rifarsi le tette e il cuo. Tu cerca di allenare quelle parti. Cioè, appunto, facendo sport, ti consiglio anche pesi comunque perché tonificano moltissimo in modo molto rapido, tu potrai diventare sicuramente seguendo una dieta per non diventare Moby Dick, diciamo così. Devi cercare di dare il meglio di te stesso. Questo è fondamentale. Ovviamente, diciamo, se vuoi far impazzire, tra virgolette, di uomini di qualità, devi diventare tu una donna di qualità. Questo è un altro presupposto, direi, molto importante, un presupposto fondamentale. Il linguaggio del corpo lo puoi allenare, quindi devi guardarti allo specchio, prendi spunto da qualche, diciamo, anche da qualche film, da qualche attrice. La camminata è veramente molto importante, il sorriso è veramente molto importante e anche la voce è importante. Allenati a non avere una voce monotona, malgassona! Devi imparare ad utilizzare diversi toni. Fondamentalmente ci sono i toni duri e i toni dolci. Il tono dolce, il tono melodioso, è quello che normalmente seduce di più. Ma ogni tanto usare un tono un po' più duro serve perché rappresenta analogicamente alla sgridata. Molti uomini di valore, anche, li ricordo un po' la mamma quando li sgridava, no? I due, come dire, simboli fondamentali sono tacchete per il tono duro e maluma per il tono dolce. Allena entrambi. Prova a dare... Grazie.